Amici, benvenuti nel mio canale. Oggi voglio informarvi quello che mi è successo. Praticamente io ho due canali, ma prima avevo solo uno. Prima avevo DJ David Lacoste. Cosa è successo? Che diversi anni fa avevo questo canale, avevo messo dei video che non dovevo mettere, avevo sbagliato anch'io, mi è stato chiuso il canale di DJ David Lacoste, che poi ho riaperto sotto il nome di David Lacoste ufficiale, ma dopo anni che era stato chiuso, 2-3 anni più o meno, poi è stato recuperato e ora voglio informarvi che ho due canali, DJ David Lacoste e David Lacoste ufficiale. Per cui andate a vedere i video che ci sono dove DJ David Lacoste ci sono i video dell'Africa, del Marocco e diversi altri video, che non ci sono sul video di David Lacoste, quelli che ci sono su David Lacoste ufficiale non ci sono lì. Quindi andate a vedere i video, mi scuso per quello che c'è stato, ma non è stata colpa mia, io non sapevo neanche che potessi recuperare il canale, avevo fatto di tutto ma non era riuscito, adesso ci sono tutte e due, quindi fate girare i miei video, guardateli, si fa quello che si può, naturalmente non posso andare contro il sistema, posso spiegare le cose, come abbiamo accennato sul nuovo ordine mondiale, quello che era successo, tutte queste cose qua che affronteremo, arriveranno gli ostacoli fino all'ultimo giorno dell'apocalisse, nessuno può comprare o vendere chi non porta il marchio, sulla mano destra e sulla fronte, voi siete liberi di non credere, però questo giorno ci arriveremo, calcolando che quel giorno lì non ci saranno più i soldi liquidi, sarà elettronici e quindi sarà tutto un microchip che ci obbligherà a chi non lo porta, non potrà più comprare o non vendere, questo non so quando, una cosa è sicura, finché ci siamo, finché le cose vanno, guardate il mio video, fatele girare, vi saluto con tutto il cuore, un abbraccio, grazie, David Lacoste, official e DJ David Lacoste, bye!